Ben trovati alle TG Med Sport, la trentesima giornata in Serie B con due anticipi, l'apertura delle Trapani alle 19 al Provinciale contro il Varese, poi invece giocheranno Siena e Avellino alle 21, tra l'altro con particolare attenzione per il Siena che sarà dopo Pescara il prossimo avversario del Palermo, per il Trapani invece qualche problema di formazione per Boscaia perché ci sono tanti squalificati, Nord, Inizetto e Pagliarulo, il Varese invece ha cambiato il tecnico e è ritornato Stefano Sottili, allora la vigilia nelle parole di Roberto Boscaia per il Trapani e Stefano Sottili per il Varese. Noi dobbiamo marciare per il nostro obiettivo e non guardiamo sicuramente tanto a loro anche se dobbiamo farlo e domani sicuramente lo faremo ma il nostro obiettivo è quello di vincere la partita indipendentemente da come loro si presenteranno e quindi a livello di atteggiamento dobbiamo avere un atteggiamento molto aggressivo con grande furore, dobbiamo far capire alla Varese che domani c'è poco da fare. E quindi ripeto loro avranno magari avuto una scossa ma magari i punti li faranno dalla prossima in poi. Dobbiamo giocare come se fosse una finale perché domani per noi è una finale, una finale sotto tutti i punti di vista, domani dovremo andare in campo e massacrare naturalmente sportivamente il Varese. Sì abbiamo valutato un po' di cose onestamente abbiamo lavorato su alcune situazioni che loro possono venire a fare è probabile ma non certo, non sicuro che loro giochino così però è una possibilità quindi abbiamo lavorato anche su questo e anche su altre cose ma ripeto anche su questo. Stefano è un allenatore bravo che sa anche come giochiamo noi, ci conosce bene quindi ha sicuramente proposto delle contromisure nei nostri confronti alla squadra però di contro anche noi lo conosciamo, anche io lo conosco quindi sarà una partita anche tattica però in campo ci vanno i ragazzi, chi avrà più voglia, chi avrà più determinazione, chi avrà più spirito di sacrificio e chi correrà di più probabilmente vincerà la partita. Probabilmente dico perché io metto sempre una percentuale che è anche episodica e lo sappiamo soprattutto in partite equilibrate gli episodi a volte ti fanno vincere o perdere la partita. Bella contro una squadra che sta viaggiando benissimo che è una delle note liete delle sorprese di questo campionato stanno bruciando le tappe da quando erano in Serie D questo merito di una società e di uno staff tecnico che sa quello che vuole e riesce ad ottenerlo però non voglio andare a Trapani a fare la vittima sacrificale non voglio che la squadra sia messa sull'altare sull'altare e essere sacrificata al mio amico Boscaglia andremo giù a giocarci la nostra partita cercare di rendergli pampe focaccia ogni volta che ce ne sarà la possibilità perché la necessità è quella di ritornare a fare punti al di là dell'avversario che si vada ad affrontare avere tre partite in una settimana contro squadre che stanno andando così bene non è certamente semplice però da un certo punto di vista è anche più stimolante è ovvio che l'attenzione, i richiami quando c'è un cambio tecnico si alzano da parte dei giocatori ma dover affrontare squadre come Trapani, Empoli e Palermo credo che questo possa alzare ancora di più al di là degli stimoli verbali che possa portare il tecnico io sono molto contento di come la squadra si è allenata in questi giorni mi hanno mandato dei segnali molto positivi l'unica cosa che mi dispiace è che ci sono delle defezioni dovute a influenze, virus intestinali e solamente un problema fisico Palermo che prepara la trasferta di Pescara lo fa con Abel Hernandez nella lista dei convocati deciderà poi soltanto nell'immediata vigilia Beppe Iachini se portarlo in panchina schierarlo dal primo minuto utilizzarlo comunque a partita in corso la buona notizia è che comunque l'attacco del Palermo di fatto è al completo con Dibala, Lafferty, Belotti è proprio Abel Hernandez Cosmi che ha parlato della sua esperienza a Palermo ha rilanciato il Pescara un Pescara che si affida non soltanto ai gol di Ferdinando Sforzini ma anche alla classe del siciliano Antonino Ragusa ascoltiamo So solo che pensiamo a fare bene partita dopo partita è normale che adesso i risultati ci sono dalla nostra parte quindi pensiamo anche a fare un filotto di risultati che abbiamo visto all'andata ci ha permesso di scalare la classifica quindi niente bisogna pensare come ho detto prima partita dopo partita e poi come ho sempre ribadito i conti si faranno alla fine è normale che giochiamo con la prima della classe quindi non sarà una partita facile però la nostra squadra è una squadra costruita apposta per fare bene quindi non dobbiamo spaventarci di nessuno ma non lo so se è scattato qualcosa dopo l'arrivo del mister sicuramente adesso i risultati sono dalla nostra parte quindi come si dice bisogna battere il ferro finché è caldo e quindi continuare a fare bene che alla fine potremo toglierci qualche soddisfazione beh a parte il fatto che sappiamo tutti sappiamo che la colpa è nostra che fondamentalmente scendiamo noi in campo il sabato quindi è normale che i primi responsabili siamo noi quindi dovevamo farci tutti un esame di coscienza e poi quando succede un cambio del genere in ognuno di noi scatta qualcosa magari per dimostrare quello che non l'ha dimostrato finora e di conseguenza una cosa tira l'altra ti porta a fare bene infatti i risultati si stanno vedendo andiamo su trmweb.it apriamo la sezione dedicata allo sport con non soltanto la notizia del Catania primo passo per il nuovo stadio la pallavolo con la partita dell'Andros Palermo in B2 femminile si gioca al Paladon Bosco alle 18 domani ma soprattutto con la straordinaria vittoria dei Cardinals Palermo per quanto riguarda il football americano in Serie A2 una vittoria storica dopo 15 anni infatti vengono battuti gli Elephants Catania straordinaria prestazione 48 a 39 il risultato finale una data che dunque rimarrà comunque negli annali con i Cardinals che tra l'altro hanno raggiunto sono stati premiati in questa settimana anche per il miglior quarterback il miglior running back e poi in generale per la migliore fase offensiva adesso c'è una settimana di pausa prima della ripresa del campionato il 30 marzo con i Cardinals che andranno a Cagliari contro i Crusaders sono comunque tre vittorie consecutive su tre incontri fino a questo momento ne parliamo con i protagonisti grande partita dei Cardinals che dimostrano che il football è spettacolare e che fino all'ultimo secondo si può fare qualcosa e qualcosa può accadere nel bene e nel male forza Cardinals una partita tirata fino all'ultimo momento capovolgimenti di fronte ha vinto chi ci ha creduto di più e chi ci ha messo il coraggio fino alla fine vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci Piva, l'edilizia che ti vizia Piva è cartongesso sistema tintometrico sistema a cappotto intonaci guaina ferramenta idraulica rivestimenti dal cemento alla pittura a vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti aperti anche a pranzo Piva, l'edilizia che ti vizia a Palermo via Galileo Galilei 106 Rotonda Viale Lazio Infoline 091-784-6193 presenti anche su Facebook www.edilizia-piva.it